ciao a tutti ben ritrovati abbiamo fatto una pausa di qualche giorno giusto per goderci un po il sole il caldo e quel pizzico di ritrovata libertà però siamo tornati più entusiasti di prima per continuare il the travel jukebox allora il video di oggi è dedicato a lorenzo ciao lore che ci ha richiesto can buy me love dei beatles quindi lore è tutta per te ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti